Voi sapete che sono tanti anni che noi suoniamo assieme e proprio nel momento in cui sembra che ce la stiamo facendo è successa naturalmente una piccola sfiga che poi è diventata grande fortunatamente stiamo limitando i danni comunque con noi ha suonato per tantissimi anni ha fondato questo gruppo insieme a me e Marco il batterista ha suonato per anni, tantissimi anni insieme a noi e adesso purtroppo si è rotto un polso un piano piano sta recuperando e noi questa sera qui vicino alla casa nostra vicino alla terra nostra abbiamo voluto preparare un pezzo che suonerà insieme a noi accogliamolo con un bel applauso Agostino Silvestri e abbiamo pensato di fare un pezzo che lui mi ha aiutato nello scrivere, nell'arrangiarlo e tutta opera sua è Ragazze e Moderni Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.